Ciao a tutti e benvenuti, benvenute in un nuovo episodio di Italiano Bello. Oggi un'altra intervista, infatti ho qui con me Marti, direttamente dal Canada. Ciao Marti, vuoi presentarti, dire chi sei, cosa fai? Buongiorno Irene, buongiorno a tutti, a tutte. Grazie per l'invitazione. Sono Marti, sono chebeccese, il Quebec è la parte francese del Canada, vivo a Montreal. Ecco. Quindi la tua lingua madre è francese, giusto? È il francese, sì. Però parli anche bene inglese, immagino. Sì, però sì, sì, non l'uso, non l'uso nella mia vita. Ah, non è una lingua che si parla nella tua città? Parla a Montreal, ma non bisogno di parlarla ogni giorno. Ho capito, sì. Sì, benissimo. Vuoi dire qualcos'altro su di te? Che cosa ti piace fare? Tutto quello che vuoi dirci per conoscerti un po' meglio. Mi piacciono molto il cinema, lettura, curare il mio giardino. Sì, perfetto. E fare delle passaggiate nella città. Molto bello. Veniamo invece all'italiano. Perché hai deciso di impararlo e quando? Sono innamorata della cultura italiana e dell'Italia. Quindi, pensavo che è necessario di imparare la lingua. Perché la lingua permette di vedere meglio la cultura. È vero. Era un sogno. Poi ho trovato il tuo podcast. Un po' per caso. Questo podcast è perfetto. Perché parli molto lentamente. Sono contenta che ti sia stato utile. Sì. Allora, ho visto che sei un insegnante dell'italiano e ho deciso che era finito il tempo di sognare. Era il momento dell'azione. Che bello. Allora, ho cominciato all'inverno in 2023. Complimenti. Quindi prima non avevi mai studiato seriamente l'italiano? No, 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 no. Conoscevo. Buongiorno, grazie. Niente di più. Quindi hai iniziato ad ascoltare il podcast, ma a quel tempo non avevi mai studiato. Solo che riuscivi già un po' a capire, forse per la similitudine con il francese? Ah, i primi episodi dovevo ascoltarli tre o quattro volte all'inizio. E' molto bello quando riascoltiamo magari gli stessi episodi e ci rendiamo conto che adesso è molto più facile capirli. E' la bellezza del podcast perché è possibile ascoltare ancora e ancora. Sì, è vero. Bellissimo. Una bellissima ispirazione la tua storia. E adesso a che punto sei del corso italiano naturale? Ho fatto metà, la metà del corso. Complimenti perché hai iniziato comunque da pochi mesi e già riesci a parlare italiano. Questo è straordinario, quindi complimenti. Chissà quanto sarai fluente alla fine. Questo corso mi piace molto perché penso che sia necessario di avere un ordine, una struttura. e vedo una struttura nel tuo corso, una progressione. E anche mi piace il fatto che sia in italiano dall'inizio. E com'è andata all'inizio? Tu che non avevi mai studiato l'italiano, hai avuto difficoltà nelle prime lezioni? Perché alcune persone pensano, ma io non ho mai studiato l'italiano. Come farò a capire se il corso è tutto in italiano, anche la grammatica, anche la civiltà dall'inizio? È vero, però per una persona che parla già una lingua latina è probabilmente un po' più facile. Anche con il tuo corso posso leggere il testo, quindi non è difficile dall'inizio, è perfetto. Benissimo. E partecipi anche agli incontri del giovedì con gli altri studenti? Hai partecipato? Uno o due volte, non di più, ma con il tempo ho trovato una persona a Montreal, una persona italiana. La incontro due volte al mese per un'ora. Mi dà un'opportunità di parlare di più. Eh sì, quando troviamo qualcuno vicino a noi è ancora più bello, perché possiamo vederci, toccarci. Bene, grazie di averci raccontato un po' la tua storia. So invece che hai fatto un viaggio a Roma e siccome quando è estate in questi mesi ho deciso di fare un po' di interviste ai miei studenti che raccontano i loro viaggi in Italia. Quindi dici quando hai viaggiato a Roma e cosa hai fatto, com'è andata, cosa ti è piaciuto, cosa ti è piaciuto un po' meno. Allora, sì, ho deciso di andare a Roma per un mese l'autunno scorso. Quindi avevo cominciato il tuo corso in aprile e d'aprile a ottobre avevo fatto un po' di progressi. Sì, mi sono iscritta in una scuola di italiano a Roma. È stata un'esperienza bellissima. Era la mia prima volta a Roma, che è una città meravigliosa. Era contenta di vedere il luogo della storia d'italiano naturale. È vero, perché nel libro che leggiamo nel corso, Italiano Naturale, visitiamo varie città, Roma, Venezia. E quindi poi è molto bello andare nella città e conoscere già un po' di storia. Sì, sì. Naturalmente ho fatto dei progressi, anche in immersione, è fantastico. E poi qualche settimana fa sono andata a Venezia. Ah, ecco. Qual è stata la tua impressione di Venezia? Cosa ti ha colpito? Non era la prima volta per me a Venezia. È una città splendida. È vero. Mi piace molto la Biennale dell'arte. È bella, sì. Beh, una volta, dopo una volta, mi piace molto di vedere che posso parlare un po' di più con le persone che incontro. È una grande gioia per me. E com'è andata quando hai parlato con gli italiani? Ti sei sentita giudicata? Magari hanno iniziato a parlare inglese o francese, perché a volte succede? Raccontaci un po'. A volte succede che gli italiani parlano inglese, perché Venezia, per esempio, è una città molto turistica. ma ogni volta chiedo, chiedo di parlare italiano. E funziona. Va bene, funziona, sì, funziona. Gli italiani sono molto gentili e penso che siano contenti che una persona parla la loro lingua. Sì. Almeno prova di parlare. Anche per me è un modo di dire il mio rispetto per il paese. Quindi anche se non parlo bene, non penso che sia un problema. Bello. Mi piace questo atteggiamento, perché alcuni hanno paura di essere giudicati, si vergognano, ma penso che tu abbia ragione e che la maggior parte degli italiani, come tutti noi, quando sente uno straniero provare a parlare la propria lingua, anche se fa degli errori, sia contento. Questo mi fa venire in mente che qualche giorno fa sono stata a un concerto di musica qui a Parma e c'era un coro americano con il direttore americano che all'inizio si è presentato, ha presentato la musica parlando in italiano. Non conosceva bene la lingua, ha fatto tantissimi errori, parlava lentamente, ma sono stata commossa quasi, perché è stato proprio un bel segno da parte sua. Forse si era preparato un po' il discorso, ma è molto bello per me. Anche come dici tu è un segno di rispetto. E' vero, è vero. Quindi voglio continuare a imparare, anche perché imparare l'italiano mi dà un altro punto di vista sulla mia lingua madre. Hai imparato cose nuove sul francese studiando l'italiano? Perché lo sappiamo che l'italiano e il francese hanno dei radici comuni, però vedo spesso che il francese chebecchese ha dei radici comuni con l'italiano perché si dicono delle cose in francese chebecchese che non si dicono più in francese standard europeano. Ah, quindi ha delle espressioni più antiche, diciamo. Esatto. Che bello. E si dicono anche in italiano. Puoi farci qualche esempio? Hai in mente qualche frase di questo tipo? Sì. Posso dire in italiano, l'ho visto in un romanzo, qualcuno viene arrabbiato. Viene arrabbiato? Diventa arrabbiato? Sì, diviene arrabbiato, sì. Si dice in francese chebecchese molto facilmente e meno in francese standard. Ho capito. Interessante. Non sapevo questa cosa. Ci sono molte differenze tra il francese chebecchese e il francese standard? Sono due varietà diverse. Però capisci bene quando parla un francese? Sì, sì. Ma il lessico è un po' diverso. E anche la pronuncia è diversa. E la pronuncia, sì. Io conosco bene il francese, ma mi è capitato di ascoltare un'intervista a una donna chebecchese. All'inizio non capivo niente, perché sembra il francese pronunciato all'inglese. È molto strano all'inizio. Sì, sì. Però... Bene. Per me i diversi accenti italiani sono un po' difficili. Ci si abitua. Serve abitudine, come hai scoperto tu ascoltando e riascoltando il podcast. Bene, ti faccio un'ultima domanda. Cioè, quando viaggi in Italia, come ti piace organizzare i tuoi viaggi? Cioè, di solito viaggi da sola, ti piace pianificare da sola o ti affidi a un'agenzia, viaggi o a qualcos'altro? Come pianifichi di solito? Mi organizzo da sola. Infatti, non sono una vera viaggiatora, perché soprattutto mi piace fare come si sia un'italiana. Bello. Capisco quello che vuoi dire. Voglio fermarmi in una città e vivere un po' lì. È un bel modo di viaggiare. Anch'io... Io... Mi capita di fare tutti e due i tipi di viaggi. Quello in cui magari si sta una settimana in un luogo e ogni due giorni si cambia città. E invece l'altra tipologia dove si sta fermi per due settimane o più. E devo dire che preferisco anch'io la seconda, perché c'è più tempo per entrare nella cultura. Magari non solo visitare i luoghi più famosi della città, ma anche quelli meno conosciuti. Bello. Mi piace. Per me fare colazione in un piccolo caffè con le persone italiane è un gran piacere. e almeno è il stesso piacere di andare in un museo. Lo capisco bene. E forse si impara quasi di più nel caffè che nel museo. Dipende. Ma tutte e due sono importanti? Sì, certo. Bello. Bene, grazie mille per il tuo tempo e ti auguro dei buoni viaggi in Italia e buona fortuna con la seconda metà del corso. Grazie mille Irene. Grazie a te perché sei un'insegnante così interessante. Grazie a te perché i miei progressi in italiano sono grazie a te. E anche grazie a te e al tuo impegno e alla tua costanza. Grazie, mi fa molto piacere ed è bello vedere i vostri progressi. Bellissimo. Grazie.